ciao a tutti sono martina questo è un video tutorial dove spiegherò passo per passo la mia coreografia sulla canzone 4k intanto vi dico subito che voglio vedervi ballare questa coreografia voglio assolutamente vedere tutti i vostri video quindi taggatemi su instagram su youtube di toc facebook ovunque sui social iscrivetevi al mio canale lasciate un like e un commento scrivete se vi è piaciuto questo video se vi è piaciuta la coreografia se sono stata chiara nelle spiegazioni insomma le vostre impressioni questa coreografia è molto veloce ma non vi preoccupate la spiegherò con calma passo per passo per vedere e per fare questa coreografia con la musica cercate il video del mio canale oppure nel link che lascerò nella descrizione in questo video siamo pronti a ballare iniziamo primo passo passo base d'embowo incrocio incrocio doppio quindi pa pa doppio ok sposto il piede faccio l'incrocio tocco con la punta ok il busto va dalla parte opposta della gamba ok è singolo singolo doppio quindi pa 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 mi aiuto un po per dare l'effetto con le braccia e con le spalle e sto leggermente più basso ok ci se se uno e due e tre e quattro da qui la gamba davanti fa pa 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 tocco con le mani il tallone pa 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 e appoggio quindi cinque e sei sette quindi appoggio e metto le braccia una sopra l'altra con le mani a paletta da qui la gamba gira verso l'interno pa 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 mezza punta pa 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 una volta sola le braccia fanno questo ruotano ruotano dalla parte opposta in cui 5 e 7 7 7 e 8 da qui le gambe fanno questo attorno a 1 2 3 4 quindi apro chiudo apro chiudo quindi faccio una semi rotazione verso dietro a pam 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 le braccia fanno questo ruotano sempre con le mani a paletta. Insieme viene, pam, 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 pam. Da qui muovo il bacino tre volte, pam, pam, pam. Le braccia, mentre muovo il bacino, fanno questo, con i pugni, pam, pam, pam. Quindi, pam, pam, pam. Da qui sono tre saltelli per tornare al posto, quindi, pam, pam, pam. Da qui sono qui, pam, pam, pam. Ok? Pam, pam, pam. Da capo, da capo. Uno e due e tre e quattro, cinque e sei, sette e otto. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei, sette e otto. Le braccia fanno questo, insieme a saltelli delle gambe. Quindi, stiamo qui, pam, pam, pam. Stiamo qui, pam, pam, pam. Ok? Lento dal capo. Uno e due e tre e quattro, cinque e sei, sette e otto. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei, sette e otto. Andiamo alla seconda parte. Qui gioca molto l'interpretazione. Allora, non appena le braccia fanno questo e vanno giù, è subito continuano e fanno questo. Quindi, ruoto sopra e vado subito a fare questo. Mano dritta, piego le gambe e faccio questo con la mano. Se ce la fate, ruoto anche un po' il bacino. ok? La testa fa questo. Viene tutto insieme, viene. Ok? È lento, sarebbe uno, due. Dopodiché, mano sul fianco e faccio, sposto il bacino, sposto il bacino e dico no, no. Quindi, ta, ta. con il tempo. Uno, due, tre, quattro. Con le gambe faccio, pam, pam. Quindi, tiro sul ginocchio e il piede va verso l'interno. Da qui, bom, bom. Se ce la fate, date l'effetto con il bacino, con una rotazione e scendo leggermente verso il basso. Bom, bom. Ok? Le mani fanno questo. Pam, pam. Quindi, dall'esterno verso l'interno. Ok? Prima la destra e poi la sinistra. Sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Appoggio. Con le gambe faccio questo. Il busto fa un'onda verso l'alto. Quindi, pam. Vi faccio vedere di lato, insieme alle gambe. Ok? Le mani fanno questo, ruoto. Ruoto e vanno verso l'alto con i pugni. Tutto insieme viene. Ok? Quindi, qui, pam, 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 pam. Da qui sono tre blocchi. Pam, pam, pam. Il bacino fa pam, pam, pam e scende verso il basso. Le braccia con i pugni fanno uno, due, tre. Insieme viene pam, pam, pam. Proviamo. da qui. Proviamo da qui. Sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Pam, pam, pam. Da qui, ruoto il bacino. Le mani a paletta fanno questo. Ruoto anche con le spalle e con il busto. muovo il petto. Ok? Abbiamo fatto pam, pam, pam e, e. Da qui, faccio salto, salto, pa, 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 pa. Quindi, salto a sinistra, salto a destra e ruoto. Le braccia fanno bom, bom, pa, 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 pa. Quindi, uno, due, tre, quattro. Un e due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Da qui cambio peso e vado sulla gamba dietro. Uno, due, tre. Sono tre. Uno, due, tre. Lentamente. Bom, 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 bom. Ok? Mi sposto con il busto dietro e molleggio con le gambe tre volte. Uno, due, tre. Ok? Facendo questo, aggiungo le braccia e faccio uno, due, tre e apro. Quindi, uno, due, tre e apro. Torno al centro. Sette, otto. Finisco e chiudo. Chiudo con le pistole. Nelle mani faccio due pistole. E punto. Proviamo da capo lentamente. Cinque, sei, sette, otto. Uno e due e tre e quattro. Cinque e sei, sette e otto. Uno, due, tre, quattro. Cinque e sei, sette e otto. Uno, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette e otto. Uno e due, tre, quattro. Cinque, sei, sette e otto. Uno e due e tre, quattro. Cinque, sei, sette e otto. Da qui subito cambio peso, da qui, da qui, vado avanti, quindi tre appoggio con le braccia. Da qui faccio, nel cambio passo le braccia fanno questo, qui, con i pugni, metto anche la testa, cambio passo, da qui, le gambe fanno, uno, due, tre, e sposto leggermente il busto, pom, 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 non è molto di impatto, questo è abbastanza fluido, perché le mani sono qui, le metto qui intorno alla testa e faccio, uno, due, tre, uno, due, tre, mi abbasso leggermente, uno, due, tre, quindi uno e due, tre, quattro, cinque, sei e sette, otto, sette, otto, finisco e faccio, pam, pam. Questo è molto veloce, quindi potete fare anche dei movimenti più compatti, più stretti, ok? Quindi, uno, pa, 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 e... Allora, da qui arriva poi la parte fluida, però adesso partiamo da capo, rifacciamola da capo lentamente. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E 8, faccio, le mani fanno questo e vanno dietro, da qui le mani fanno questo e vanno dietro. Questo è un po' difficile nella coordinazione, però è lento, le mani fanno questo, il bacino fa questo, quindi piego e sposto, la testa lentamente fa questo, tutto insieme, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Da qui le gambe e il busto fanno, pam, pam, ruoto, le braccia, le braccia fanno, pam, quindi con i pugni, quindi con i pugni, pam, pam e unisco, insieme viene, 1, 2, 3, 4, qui. Bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui due pose come volete, interpretazione, io faccio, pom, pom, poi, da qui, dopo le due pose faccio, pam, pam. Allora, la gamba ti appoggia a mezza punta e fa questo, l'altra semplicemente appoggia, appoggia e nell'appoggiare ruota. Quindi provate prima a fare questo e ruota il bacino e poi accento e poi accento, ok? Sono solo due, pam, pam, busto leggermente piegato in avanti, le braccia fanno questo, quindi 1, 2, lente. 1, 2, chiudo, pam, pugni, e, 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 e mi giro leggermente, e, e, qui abbiamo fatto due pose, 1, 2, pausina, e, e, chiudo, pam, pam. Questo è veloce, se non vi riesce a prenderlo subito, le fate 1, proviamolo dal capo lentamente. 5, 6, 7, 8, 1, e, 2, e, 3, e, 4, 5, e, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, e, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, e, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, posa 2, e, e, pa, pa, le gambe fanno questo quattro volte, pa, 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 quindi muovo un po', muovo velocemente il bacino, destra e sinistra e le gambe fanno leggermente questo, come vi viene questo, non vi preoccupate, sono quattro, nei primi due faccio questo, con le braccia, e, e, i secondi due faccio questo, muovo le spalle, quindi viene, e, 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 da qui, 1, 2, 3, 4, porto il peso sulla gamba destra, salto, dietro, salto, dietro, ok? Le braccia fanno questo, pa, 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 lentamente, quindi, pa, 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 i salti sono tre, pa, 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 più veloce, pa, 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 più veloce, pa, 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 ancora, pa, 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 le braccia fanno questo, pa, 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 più lente, pa, 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 da qui, apro dietro, da qui, le gambe fanno, pa, 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 da qui, che è sollevata, da qui, che è sollevata, apro e vado avanti, appoggio, le braccia fanno questo, pa, 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 ruoto dietro, e posiziono, fanno come la gamba, insieme viene, pa, 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 e, 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 dal capo, questo pezzo, da qui, 5, 6, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da qui, sposto la gamba dietro, quella dietro, e faccio un semicerchio per tornare in posizione davanti, nel farlo, però, sono un impeso sulla gamba davanti e l'altra picchia per terra, muovendo il bacino, quindi, pa, 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 la mano fa questo, ok, 7, 8, 1, 2, 3, 4, da qui, pa, 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 sono due, ruoto, quindi sposto il bacino, due volte, e ruoto con la mezza punta, il ginocchio verso l'interno, e, e, il braccio fa questo, è qui, fa, pa, 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 qui, e, e, 1, 2, 3, 4, 5, e, 6, ok, da qui, le gambe, da qui, poi, le gambe fanno sempre questo, leggermente, il bacino fa questo, e si sposta, fa un'oscillazione, pam, 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 le braccia e, 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 da qui, chiudo, con una rotazione della testa, quindi da qui faccio, chiudo, con una rotazione della testa, e vado giù lentamente, ok, questa è la mossa finale, quindi potete decidere di fare qualsiasi altra cosa, io ho deciso di fare questo, ma in vibra, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posa 1, posa 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, ehi. Proviamo leggermente più veloce. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 4, ehi, ehi, pam pam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ehi, ok abbiamo finito, spero di vedere i vostri video, aspetto i vostri commenti, i vostri mi piace, le vostre impressioni, grazie mille di aver guardato questo video, e alla prossima!